Li lasciano liberi di volare i compagni di Andrea, il pallone aerostatico a forma di cuore e decine di palloncini bianchi, leggeri, a stemperare il peso di una realtà assurda, il funerale di Dega, che se ne è andato a 17 anni tra le mura della scuola, luogo protetto, incubatore di speranze e saperi. Sono quelle altrettanto care dell'auditorium del convento dei Cappuccini, dove era stato battezzato, gremito all'inverosimile, a ospitare il saluto per quel viaggio che lui ha intrapreso prima degli altri, ma che aspetta tutti noi, ha detto Don Alessandro Elia nell'Omelia in cui cita Don Tonino Bello e sottolinea che si muore soltanto se si viene dimenticati. Non sarà così per Andrea, lo promettono i professori nella lettera affidata alla lettura di una compagna, bello, nobile e puro, sarà sempre in classe. Gli amici ricordano il nostro supereroe con i riccioli, chiamava Zorro e i film strappa lacrime e ricacciando il nodo in gola intonano i refrendi uomini soli degli amatissimi Poo all'uscita della barra bianca. Ringrazio a tutti, lo strazio negli occhi, mamma Sabrina, accanto Papa Franco, il nonno, gli zii, accompagnano il loro ragazzo che scriveva la vita è un viaggio, un viaggio interrotto troppo presto, ci sarà tempo per la verifica delle eventuali responsabilità per quel salto nel vuoto. Il fascicolo aperto dal pubblico ministero Giuseppe Capoccia resterà contro i gnoti almeno fino a quando non saranno completate le verifiche della polizia, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sul livello di consapevolezza, di frequenza e pericolosità di quell'abitudine dei ragazzi di recuperare oggetti oltre la recensione dei campetti da gioco.